Don Mario Peracci, gli italiani sembra stiano diventando sempre più poveri, per voi non è una novità? Certamente non è una novità proprio perché noi, soprattutto come Chiesa, curiamo i poveri perché Giuseppe ha già detto che i poveri li avrete fino alla fine del mondo, sempre. Quindi per tutto quello che si può fare si fa sempre poco, ovviamente per i poveri. Se pensiamo che la Chiesa dei primissimi tempi, chiunque diventava cristiana, vendeva tutte le sue proprietà per darle ai poveri, in attesa di questa che è la speranza dell'eternità. La povertà è diventata normalità quasi ormai oggi nella nostra Italia, ma allarghiamo anche in Europa. E proprio perché intorno a noi è diventato difficile vivere, esistere. Ci siamo creati un mondo talmente incatenato e ci autolesioniamo in tutto e per tutto che è difficile anche mangiare. Senta Don Mario, lei è anche famoso perché qui a Roma, in pieno centro, a questa Chiesa che è appunto l'Oratorio dell'Angelo Custode. Lei spesso fa dei pranzi per i più bisognosi, ma anche dopo la messa, la domenica alle 17, lei fa anche questi pacchi. Ecco, com'è cambiata la povertà? Quali sono adesso le persone che ne usufruiscono, che vengono da lei, a rivolgersi da lei? Innanzitutto mi permetto di dire che è molto poco quello che riusciamo a fare. Si potrebbe fare molto di più, ma non ci sono le possibilità proprio per farlo. Perché anche per i pacchi, al di là della Gea che aiuta un po', ma poi sono la generosità di varie persone. Anche i pranzi sono dei catering che offrono il primo, il secondo, i contorni, le varie cose. Ed ovviamente anche i catering amici hanno difficoltà di poterlo offrire diverse volte durante l'anno. Questa Chiesa è importante a Roma perché nel centro di Roma, in Piazza Poli, è vicino anche alla politica. Qui intorno è tutto solo politica, ma di fatto è la Chiesa dei poveri, proprio dedicata ai poveri. In quanto prima di me, ormai sono 15 anni che sono qui, prima di me c'era un grande sacerdote, Don Luigi di Liegro, che era il fondatore della Caritas. È stato qui per 30 anni. Quindi questa Chiesa è abituata a avere i poveri, aperta notte e giorno per loro, per farli dormire, per mangiare, per accudire. Anche i bambini sono i figli di tutti, i anziani. E la povertà è cambiata proprio perché abbiamo notato che prima, i primi anni, erano stranieri. Invece adesso sono italiani, sono coppie. Soprattutto la domenica, quando vengono qui in Chiesa per la Santa Messa delle 17, sono anziani, sono famiglie bisognose, sono uomini licenziati che non hanno più possibilità di lavorare perché li hanno licenziati a 50 anni. È gente disperata che ha bisogno anche solo di una parola di conforto, oppure di un chilo di pasta, un po' di parmigiano, un po' di olio, per andare avanti. Però potremmo fare molto di più, veramente molto, molto di più. E mi permetto di dire che, insomma, con la buona volontà, perché la gente è buona, generosa, in Italia sono tutti buoni, generosi, però non gira più il danaro e quindi non c'è possibilità di sperare e non c'è neanche lo sguardo lontano di poter dire, sì, usciremo. È stato male, a lei è capitato qualche sacerdote, insomma, ha raccontato che anche, insomma, le, come dire, le donazioni nei bussolotti, insomma, sono diminuite, qualcuno, insomma, si lamentano e magari, più che altro, qualcuno, insomma, è difficile dirlo, però, insomma, qualcosa manca, forse è quasi, qualcuno, insomma, ruba, tra virgolette, insomma, non è capitato. Ma come no, è normale, cioè, è vero che sono diminuite le offerte proprio perché non c'è il danaro sufficiente, le persone non mettono più neanche un euro, non mettono un centesimo, due centesimi, cinque centesimi, c'è piccola moneta e poi si ruba, si rubano, rubano tutto, rubano, perché nel centro nostra chiesa del centro, storico, sono sempre oggetto e io li vedo, perché qui la chiesa ha le telecamere, li vedo mentre tentano con il metro retrattile di infilare e attaccano col biadesivo, insomma, mille cose fanno, ma sono poveracci, cioè, povera gente, uno ha rubato un candeliere, poi i carabinieri l'hanno preso e l'hanno riportato, un altro ha rubato Gesù Bambino, per poterlo vendere, 5 euro, cioè, è la miseria che spinge a questo, non sono neanche colpevoli, oserei dire, il furto è sempre da condannare, ma se uno lo fa perché deve mangiare, ovviamente bisogna aiutarlo in qualche modo. Secondo lei, visto che lei dice che siamo qua nel salotto della politica, quali sono a questo punto come sacerdote, come pastore, le vie per poter ricominciare da capo, l'Italia è sempre stata un paese molto ricco e sta conoscendo, dopo la seconda guerra mondiale, forse il periodo più difficile della sua storia. Io sono rimasto impressionato ieri sentendo le statistiche e il telegiornale, cioè, nel 2012, un milione e 27 mila italiani sono stati lavoratori licenziati, ma com'è possibile? Cioè, vuol dire che siamo nella crisi totale delle aziende, abbiamo sentito quell'uomo e quella donna, poveri con il fratello della signora che si sono tolti la vita perché si vergognavano della miseria. La politica deve cambiare, la nostra società deve cambiare, deve diventare più equa, giusta, liberale, vera. Non possiamo avere una presenza di tassa del 51-52% dell'incasso di una ditta di un'azienda, è troppo esagerato e bisogna procurare il lavoro ai ragazzi e ai giovani. Abbiamo il 37% dei nostri giovani disoccupati, il che vuol dire milioni di ragazzi disoccupati che non hanno speranza. A me come prete, perché siccome mi vedono in televisione a Rai 1, arrivano tante di quelle richieste di lavoro, di aiuto, di sostegno, tanti curriculum di persone anche altolocate, persone che hanno studiato, universitari, geometri, ingegneri, che cercano lavoro. È possibile che la politica non trovi la strada giusta per dare lavoro. Quindi le aziende, le ditte e lo Stato soprattutto deve cambiare metodo di lavoro. Non è possibile pensare che dopo tanto tempo, un anno, due anni, tre anni, lo Stato paghi i suoi debiti. Questi 40 miliardi che hanno adesso dichiarato, che avrebbero da pochi giorni iniziato a dare a tutti. Ma il dovere per lo Stato rispettare come esige Equitalia le tasse, e ti mette anche sopra le tasse e tutti quanti i suoi interessi, è il diritto del cittadino e dell'azienda di essere retribuito e pagato per lo Stato per i lavori che fa per lo Stato. Quindi trovare lavoro, pagare le ditte convenientemente, essere più onesti nella politica, ridurre i costi di questa politica e fare in modo che tutti coloro che vivono e fanno politica lo facciano veramente per il bene del cittadino. Don Mario, anche Papa Francesco sembra aver dato un'indicazione ultimamente, padre povero, Francesco si ispira al poverello, quindi gli assisi. Vedete, questa è la strada giusta, perché la Chiesa vincerà, vi parlo adesso come prete, come Chiesa, vincerà la sua battaglia di testimonianza della fede proprio tramite la povertà. Il che non vuol dire vendere San Pietro, vuol dire vivere poveri con i poveri per essere tutti insieme fratelli di Gesù Cristo. Quindi Papa Francesco, finalmente nella Chiesa e fuori dalla Chiesa, sta indicando la strada giusta, noi dobbiamo tornare ad essere anche persone più semplici, tornare ad essere anche i contadini dell'orto, dobbiamo tornare ad abbassare il nostro livello, che dobbiamo stare sempre appresso ai telefonini super megagalattici che ogni giorno cambiano, dobbiamo stare appresso a tutti questo consumo esagerato. Dobbiamo ridurre anche questo nostro livello di vita, che è esagerato per quello che possiamo. La semplicità nella povertà, che non vuol dire miseria, non vuol dire essere miserabili, vuol dire sapere di poter arrivare a quel punto e di fermarsi.